ciao prego combati benvenuto entra pure ciao entra pure oggi ti racconto un po la mia storia da piccolini avevamo subito iniziato a giocare hockey assieme io e mio fratello questa foto invece è quando giocavo negli juniors e in questa squadra mi ricordo ci sono diversi giocatori come l'isacco e zaccheo e patrick qui siamo nel 2005 giocavo nei moschito top è una foto sotto le volte della mitica valascia vediamo isacco il centro capitano del deni tutto a destra deni grassi e poi come dimenticare quel gol di qualche settimana fa il primo gol nella nuova pista lo stesso giorno che ha segnato anche mio fratello anche quella è stata una partita che non dimenticherò mai qui è uno degli ultimi gol è stato il primo per me nella nuova valascia per i malinconici questo è il mio secondo gol con la maglia dell'ambrina professionista in prima squadra è stata un'emozione grandissima segnare il pareggio a un derby è qualcosa di incredibile una scarica di emozioni è stato veramente un momento magico bellissimo che ricorderò per sempre e a proposito del futuro sono molto orgoglioso di dirti che per i prossimi cinque anni sarò sempre qui a ambrino sono felice di annunciarvi che ho prolungato il mio contratto fino alla stagione 2025 al 2026 vi comunico con orgoglio e fierezza che farò parte della famiglia bianco blu fino al 2026 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti